Ciao ragazze, ecco un altro vestito che ho tirato fuori da quel cambio stagione. Questo è un rosa antico, è un vestito un colore un po' più spento e quindi ho fatto lo stesso discorso, una punta di colore. Ho messo le scarpe multicolor che danno una certa importanza all'outfit. Visto che il vestito è molto molto corto non posso indossare una cinta perché lo alza ancora di più e diventa da non poter portarlo, anche perché questo non è un vestito da cena o da ristorante o non lo è almeno per me. Questo è un vestitino di giorno, diciamo così, e quindi con la cinta si accorcia ancora di più. Se per caso dovessi uscire con questo vestito sicuramente metterei sopra uno spolverino più lungo del vestito, sicuramente sotto le ginocchia, perché così al di fuori non mi sento in imbarazzo. Tornerò a far vedere dei modelli di vestitini, modelli un po' più di un anno fa, di due anni fa, quindi questi video che posto questi giorni sono i video dei miei cambio di stagione. Spero che comunque qualche idea prendete pure voi, se per caso avete questi vestitini a casa datevi un tocco di colore. Ciao ragazze, un bacio!